buongiorno a tutti bentornati su parresia oggi presentiamo il nuova fatica di fulvio conti il sommo italiano dante e l'identità della nazione edito per i tp carocci quest'anno 2021 come ospite abbiamo ovviamente l'autore che saluto fulvio conti è professore ordinario di storia contemporanea presso l'università degli studi di firenze ed è presidente della scuola di scienze politiche cesare alfieri ora prima di passare a questa intervista io come solito ricordo di mettere like al video iscrivete al canale e di attivare la campanellina per non perdere i nostri nuovi video detto questo io di nuovo saluto l'autore fulvio conti è un libro meraviglioso inizio già a dire questo ha avuto un certo applauso non solo dal punto di vista del mondo accademico italiano ma anche di quello estero ne sono stati fatti un certo quantitivo di traduzioni ancora se ne stanno facendo e io a questo punto direi di iniziare questa intervista con una primissima domanda noi ci troviamo intanto a 700 anni dalla morte del sommo poeta dante ligheri e di conseguenza io ti chiedo in merito a questo libro che non parla di dante ma parla dell'uso pubblico che è stato fatto di dante ligheri nella storia dalla fine settecento fino ai giorni nostri e quindi a questo punto io ti chiedo intanto fulvio la genesi della tua opera c'è come ti è venuto in mente di creare questo libro che nell'introduzione tra parentesi asserisci di insomma che ti ha impegnato per diverso tempo ecco intanto parto con questa domanda prego fulvio buongiorno a tutti grazie grazie a voi per l'invito ma sgombiamo subito il campo da un possibile equivoco questo non è un instant book non è stato concepito per i settecento anni appunto che dalla morte di dante che ricorrono quest'anno anche se ovviamente un certo impulso a chiudere il lavoro è venuto anche dall'opportunità di farlo uscire in questa occasione io ho cominciato a occuparmi di questo aspetto l'uso pubblico di dante esattamente dieci anni fa per la prima volta in occasione del centocinquantesimo dell'unità d'italia cioè il problema storiografico che mi ero posto in quell'occasione riguardava l'uso dei grandi anniversari la funzione che avevano avuto i grandi anniversari e le celebrazioni relative le manifestazioni tutto quello che ruota intorno a un grande a un grande anniversario in occasione appunto del centocinquantesimo dell'unità d'italia lì cominciai a occuparmi specificamente di ciò che era accaduto nel 1921 cioè cento anni fa come la ricorrenza del secentenario della della morte era stata usata diciamo nel nel dibattito politico nelle vicende sociali politiche del momento ovviamente le conosciamo bene un tornante estremamente delicato dalla fine della guerra al all'avvento del all'avvento del fascismo quindi uso delle grandi cerimonie pubbliche l'altra questione il link alla all'identità nazionale che sta anche nel sottotitolo del libro come questi grandi eventi eh sono stati usati eh per eh contribuire a costruire una identità politica un'identità nazionale in prima battuta poi una eh identità politica anche insomma nel 21 eh intorno alla tomba di Dante a Ravenna eh si mobilitano fascisti cattolici eh nazionalisti di varia coloritura quindi insomma questo è stato un po' eh la genesi poi ovviamente l'anno scorso eh voglio dirla tutta insomma eh cominciato a scriverlo eh sulla sulla fine di marzo del 2020 non c'è bisogno di dire in che situazione eravamo eh il 25 marzo il numero zero diciamo del Dante D per cui la prima vera occasione sarebbe stata quest'anno il 25 marzo del 21 eh la grande mobilitazione nel panico nella situazione drammatica in cui eravamo a recitare tutti quanti Dante alla alla finestra e allora lo storico si interroga no non c'è bisogno di evocare croce lo faccio peraltro nella nell'introduzione la storia è sempre storia contemporanea cioè noi ricaviamo dal nostro tempo dal periodo in quale viviamo suggestioni stimoli per interrogarci sul passato e insomma il quesito era forte perché ancora Dante? Beh intanto ti ringrazio per questa breve introduzione e a questo punto entro proprio nel vivo e ti chiedo dunque nel tuo libro che ho avuto modo di leggerlo in questo periodo diciamo che spieghi che la figura di Dante contrariamente è quanto si pensi per quanto fosse comunque importante tra settecento e ottocento era però relegata un po' diciamo in in secondo piano rispetto ad altri poeti Petrarca, Ariosto, Tasso eccetera ma tutto cambia appunto tra la fine del sette e l'inizio del diciannovesimo secolo grazie a chi? Grazie ad Alfieri, grazie a Monti e in seguito poi anche a Foscolo e a Mazzini. Ecco a questo punto ti chiedo cosa cambiò a cavallo di quei due secoli per far sì appunto che questa figura di Dante iniziasse a costituirsi come collante della futura Italia Unita. Prego Fulio. Che cosa cambia in quel momento? Cambia tutto verrebbe da dire c'è quella piccola cosa in mezzo che si chiama rivoluzione francese, prima ancora la rivoluzione americana. C'è da inventarsi e da dare una forma, da dare una consapevolezza a questa idea nuova che è l'idea di nazione. Cioè questa idea nuova, questo concetto nuovo che viene investito di un potere straordinario, cioè il potere di legittimare diciamo il governo degli stati, legittimare in qualche modo il potere, il potere politico. Quindi il re non è più o il principe non potrà essere più re o sovrano soltanto per grazia di Dio, adesso ci vuole questa roba strana, nuova, a cui nessuno sa ancora dare bene un contenuto che è la volontà della nazione. E allora questa idea di nazione va spiegata, va diffusa, va divulgata e allora si comincia a far ricorso a tutto l'armamentario che ci offre il passato. Voi sapete bene anche il ruolo decisivo che la storia ha avuto da questo punto di vista, la riscoperta del medioevo, la riscoperta addirittura anche in qualche caso delle tradizioni di un paese fino al periodo romano o preromano. E anche gli scrittori vengono utili da questo punto di vista. Guardando al passato Dante si prestava benissimo, mentre non si prestavano altri anche grandi poeti o grandi artisti. Petrarca, che veniva considerato a vette inarrivabili dal punto di vista della grandezza poetica anche rispetto a Dante, nessuno contestava che Petrarca fosse il più grande poeta e Dante fosse diversi scalini sotto e addirittura fosse sotto a Dario Osto, forse sotto a Tasso. Qualcuno, noi ci stupiamo ricordando gli anni del liceo, che lo mettesse addirittura anche sotto a Metastasio. Però nel momento in cui si tratta di richiedere anche a questi grandi del passato, a questi grandi autori, di innervare l'idea del nascente della nazione, ecco che Dante con la sua poesia impegnata, con i suoi versi, con le sue invettive, con i suoi versi dolorosi e con la sua esperienza di vita, con la sua esemplarità di vita. Dante è un esule, è costretto ad andare ramingo per l'Italia, ad andare via dalla propria patria. È la medesima esperienza di vita che vivranno i primi patrioti, i primi intellettuali anche che cominciano a parlare di Italia, di sentimento nazionale. Foscolo, Foscolo, ovviamente Mazzini e poi gli altri, Settembrini, eccetera, che sono coloro i quali contribuiscono a creare questo paradigma nuovo del Dante profeta della patria, Dante tra gli esuli, insomma Dante simbolo, insomma con evidenti forzature, questo non c'è dubbio. Quella di Mazzini, se vogliamo stare a quella più importante, Mazzini scrive all'età di 21 anni, tra i 21 e 22 anni, il suo primo prodotto letterario, dell'amor patrio di Dante, si intitola. Io scherzando dico nel gergo accademico, sapete no, ci sono le riviste di fascia A, le riviste più prestigiose. Lui da giovane impudente, come fanno molti giovani aspiranti ricercatori di oggi, lo manda subito a una rivista di fascia A dell'epoca, che era l'antologia, niente meno, l'antologia di Biese, Tommaseo, Capponi. Ovviamente Tommaseo glielo respinge senza nemmeno avvalersi del giudizio di referì esterni, di consiglieri esterni, come si usa oggi nelle procedure accademie. No, uscendo da questa metafora scherzosa, però Tommaseo lo pubblicherà poi una dozzina di anni dopo, ma Mazzini in questo scritto mette in bocca a Dante, in pratica, pensieri che sono i suoi, che sono la sua, come dire, quelli che sta cominciando a lavorare per l'idea di un risorgimento nazionale, per un'idea di patria. Pensate, alcune cose sinceramente le ho scoperte poi nel corso della ricerca o non le ricordavo, Mazzini userà per il cifrario segreto della Giovene Italia, fondata in 1831, i canti dell'inferno, della Divina Commedia e i nomi degli affiliati alla Giovene Italia, i nomi in codice, verranno presi da figure personaggi della Divina Commedia. Sentite quale, come dire, quale afflato c'era nei confronti, nei confronti di Dante. Centinaio di anni dopo Gaetano Salvemini parlando di quel saggio ha detto, un saggio che su Dante non serve a niente, non ci dice niente, ma è strepitoso per capire il pensiero di Mazzini e Mazzini ancora la sua idea di nazione, nascente idea di nazione, al pensiero, alla figura di Dante. E ovviamente capite che lui, insieme a Foscolo, Leopardi. Leopardi, quando viene a sapere che Firenze sta progettando un monumento a Dante, scrive uno dei suoi canti più belli. Cioè c'è una mobilitazione corale da questo punto di vista. E parliamo appunto di città, dunque da un punto di vista topografico, se pensiamo a Dante, ricordiamo principalmente due città. Firenze, la sua patria dove è nato e dove è cresciuto, e da dove poi è stato esiliato via, e poi ovviamente Ravenna, che è il punto, il luogo dove è morto e dove i suoi resti stanno oltretutto. Dunque nel tuo libro fai trasparire il fatto che ci fossero, diciamo, delle frizioni tra queste due città. Per cosa? Per accappararsi il prestigio di maggiore città dantesca. Ecco, per quale motivo ti chiedo? Beh, le frizioni, quasi possiamo usare questa espressione in senso ufemistico, a volte sono veramente tensioni e conflitti molto forti, perché Firenze, che aveva dato i Natali a Dante, voleva riaverlo indietro anche, voleva che i suoi resti tornassero a Firenze. Quindi io nel libro racconto, riprendendo un po' il filo, quella alla storia di questo corpo di Dante, che non sta mai tranquillo, non sta mai tranquillo, tant'è che verrà, diciamo, ai frati francescani del complesso francescano che sta intorno alla tomba, porteranno via, nasconderanno la cassetta con i resti di Dante, già nel Cinquecento, temendo che i fiorentini, quando ci sarà il papa della famiglia Medici, niente, si facciano tornare indietro le ossa di Dante. Addirittura Michelangelo aveva già predisposto il luogo dove accoglierle, il monumento eccetera. Quando viene fatta la ristrutturazione della tomba nel Settecento, ancora queste ossa non troveranno tregua. All'inizio dell'Ottocento, in pieno periodo giacobino e napoleonico, verranno nuovamente tolte per timore, nascoste, per timore che in questo caso i francesi le volessero portare via. Ritorneranno alla luce in modo fortuito nel 1865 nell'Italia unita con Firenze capitale, con Firenze che fa i grandi festeggiamenti con l'inaugurazione, il momento clou è l'inaugurazione del monumento che ancora oggi è in Piazza Santa Croce, semplicemente all'epoca venne messo al centro e poi spostato, adesso successivamente è stato spostato al lato della basilica e Ravenna rispose con l'eclatante e clamoroso ritrovamento dei resti di Dante e rispose per l'ennesima volta no alle richieste dei fiorentini dicendo guardate a questo punto non ha più senso, siamo tutti in Italia fino a pochi anni prima, fino a cinque anni prima Ravenna aveva fatto parte dello Stato pontificio, adesso siamo tutti in Italia, non ha più senso e però diciamo forse il momento di pacificazione sarebbe venuto con una grandiosa cerimonia gravida di significati politici che avvenne nel 1908 quando nella tomba di Dante, la tomba era il buio, quindi questi pellegrini che arrivavano scoprivano che questo santuario laico non era illuminato da una da una luce perenne e allora progettavano di costruire una lampada con un'ampolla votiva che fu donata d'argento che fu donata dalle terre irredente, Trieste, Trento, Gorizia, l'Istria, Piume e ci fu una grande cerimonia dove l'olio che doveva alimentare questa lampada fu offerto dal comune di Firenze e quindi ad accenderlo venne il sindaco di Firenze in quell'occasione il fiammifero cade in terra, la leggenda vuole che quel fiammifero che aveva acceso la lampada di Dante fosse raccolto da un giovane marinaio, Nazario Sauro. Sentite, vero ovviamente molto probabilmente leggenda, ma leggenda che viene raccontata e che alimenta un mito, un culto. Quindi questo, cioè io ho studiato un pochino questi fenomeni qui e poi dopo diciamo la contrapposizione fra le due città viene meno, ma l'interesse per quel corpo resterà ancora, tornerà fuori anche in seguito. Io pubblico nel libro un'immagine del 1865 che è una vera e propria ostensione delle reliquie di Dante, è l'ostensione in una teca di cristallo con la gente che va in devota processione a rendere omaggio alle reliquie di un santo laico, io lo definisco in questo modo perché quello era diventato Dante Alighieri per i patrioti e per, come dire, l'intera nazione italiana nell'Ottocento. Bene, adesso inizio a fuori alcune domande io. Allora, sappiamo tutti dai ricordi riceali che Dante fu un guelfo bianco esiliato dalla sua città natale, dove prevalsero a un certo punto i guelfi neri. Progressivamente però la sua figura viene additata a quale Ghiberlino Dante, Ghiberlino Fuggiasco. Quando questa immagine inizia ad affacciarsi all'immaginario collettivo e perché? Questa immagine è ovviamente, come dire, costruita soprattutto da Foscolo in poi, dall'immagine è quella dei sepolcri, Ghiberlino Fuggiasco, ma diciamo tutta la declinazione successiva dei primi decenni dell'Ottocento, tende ad unire l'idea di patria, cioè l'identificazione di Dante con i valori patriottici, il profeta della patria, l'anticipatore della patria, con l'idea della laicità. Diciamo che fino al 48, fino al 1848, fino al bouleversement di posizioni, al cambiamento di posizioni Pio IX, che abbandona le posizioni liberali e patriottiche per richiudersi nell'intransigentismo, nell'assolutismo. Fino a quel momento c'è spazio per una lettura ecumenica di Dante che tiene insieme cattolici liberali come Balbo, come Gioberti, come Mamiani. Poi prevale la lettura ghibellina, che è molto forte, la vediamo benissimo, nelle cerimonie fiorentine del 1865. Settembrini manderà degli articoli per un giornale napoletano e scriverà, parlando delle grandi cortei, feste fiorentine, non c'era il prete, lo dice esplicitamente, non c'era il prete. Dice ancora un po' di tempo addietro, le processioni e i nostri cortei sarebbero stati aperti dai preti, avremmo cantato il Tedeum. Questa volta è l'idea di un laica che prevale e sarà quella la cifra distintiva di tutta la seconda metà dell'Ottocento. Anche divertente, anche con delle esasperazioni. Io cito il caso della, ricordo il caso della prima, della seconda cattedra dantesca, quella che viene istituita a Roma 1888 per grande iniziativa di un filosofo giurista che era napoletano, insomma meridionale, Giovanni Bovio, che era anche un massone e un anticlericale, che quando viene istituita questa cattedra, siamo in periodo Crispino, altro massone e anticlericale, scrive a Carducci, devi venire tu a tenere questa cattedra dantesca, perché questa cattedra ci serve per sparare, per colpire con la nostra eloquenza laica il Vaticano, insomma, per contrappor. E anche Carducci, nonostante i suoi trascorsi di poeta giambico, anche lui massone, diceva, no, come possiamo, come posso io fare un torto alla verità? Dante era guelfo, era cattolico fino al midollo e quindi io non ci vengo a fare questa parte qui. E' interessante perché poi questa veramente, secondo me, è anche una questione di fondo che il libro un pochino è questo piccolo che è in stadi, se volete, insomma piccolo, relativamente piccolo, ma insomma di Dante, una cartina di Tornasole che ci aiuta a capire anche il ruolo dei cattolici nella società italiana. Quando è che Dante non è più Ghibellino? Non è più Ghibellino? Quando è che si ricuce questa frattura? Si ricuce al momento della Prima Guerra Mondiale e subito dopo. Nel 21, fra i più attivi, nel 1921, scusate, fra i più attivi nelle celebrazioni del centenario dantesco ci sono i cattolici. E Papa Benedetto XV scriverà poi una lettera apostolica molto indirizzata ai docenti delle scuole italiane dicendo Dante è cattolico, Dante è nostro e i cattolici si riapproprieranno di questa figura, ma questo avverrà, noi lo sappiamo, dopo che si è colmata quella frattura legata al non expedit, alla non accettazione della legge delle guarantigia, Roma Capitale, la questione romana, la questione cattolica, che si riempie all'altezza della Prima Guerra Mondiale sostanzialmente, quando si chiude il processo di nazionalizzazione delle masse cattoliche, che poi Mussolini saprà ben interpretare, cogliene i frutti, diciamo, una decina d'anni dopo, con i patti lateranensi del 29. Appunto, abbiamo visto, diciamo, come Dante venne utilizzato come simbolo dell'Italia, laica da parte, in epoca risorgimentale, post risorgimentale, adesso passiamo al fascismo, durante il fascismo c'è un'evoluzione, diciamo, Dante diventa un emblema dell'orgoglio italiano, la sua figura viene utilizzata in chiave nazionalistica, e vorrei chiedere appunto l'approfondimento su questo, il rapporto del fascismo con Dante e come il fascismo utilizzò Dante per i suoi scopi propagandistici. Il fascismo non dovette penare troppo per dare una coloritura nazionalistica a Dante. Il risorgimento e l'Italia liberale avevano già fatto quello che avevano già trasformato Dante in un simbolo nazionalistico, per cui il fascismo ci mette qualcosina in più. Fra l'altro si vide benissimo proprio nel 1921 a Ravenna, a proposito delle città. A Ravenna nel 1921 va in scena una specie di marcia antelittera, quando gli squadristi, 3.000 squadristi, metà partono da Ferrara guidati da Italo Balbo, metà partono da Bologna guidati da Dino Grandi, arrivano a Ravenna, fanno devastazioni, assalti alla sede della Camera del Lavoro, la sede del Partito Socialista, danno fastidio anche ai cattolici che erano lì numerosi in quelle giornate e presidiano la piazza della manifestazione ufficiale del 21, nella quale alla fine echeggia il grido, che era il grido di dannunzio a fiume, che poi diventerà il grido del fascismo. Dante per Dante, italiano, eia, eia, alala. E' già pronta, uno dei primi provvedimenti che prenderà Mussolini, una volta insediato al governo, dopo la marcia su Roma, è 22, è che in ogni sede, in ogni ambasciata, in ogni sede diplomatica italiana, all'estero, ci sia un busto nel corredo, nell'arredo, ci sia il busto di Dante. Questa è una... poi ovviamente anche gli studiosi, gli scienziati si danno da fare. Nel 21 viene fatta una nuova ricognizione delle ossa di Dante, questa volta due antropologi, uno dell'Università di Bologna, uno dell'Università di Roma, pubblicano il loro rapporto sulla rivista dell'Accademia dei Lincei e definiscono Dante di razza italica. Ecco che comincia addirittura a essere associato anche alle questioni, ai temi del nazionalismo razzista, insomma, del fascismo. L'uso proseguirà poi negli anni successivi, addirittura con alcuni progetti che non vengono realizzati. Uno di questi, grandioso, straordinario, era l'idea di realizzare un tempio dedicato a Dante, nel luogo simbolo delle cerimonie e delle liturgie politiche del fascismo, ai fori imperiali, tra il Colosseo e l'Altare della Patria e Piazza Venezia, di fronte alla Basilica di Massenzio. Era il progetto di uno dei grandi maestri dell'architettura razionalista, Giuseppe Terragni, il progetto del Danteum, un fratto bellissimo nei disegni che sono rimasti, progettato nel 1938, con un ambiente che doveva evocare l'inferno, uno sul Purgatorio, uno sul Paradiso, un grande spazio che poi doveva servire per celebrare la proclamazione dell'impero fascista. Il progetto restò sulla carta, lo scoppio della guerra non consentì di portarlo in fondo, ma è abbastanza evocativo. Come evocativo è un'altra idea folle, dall'idea della follia e del delirio, nella fase finale del fascismo. Nell'aprile del 1945, attenzione, aprile del 1945, Mussolini e soprattutto Pavolini concepiscono l'idea delle termopili del fascismo, di una estrema resistenza da realizzare in Valtellina e come nome tutelare di questo estrema atto di resistenza destinato a culminare nel sacrificio delle ultime camicie nere, Pavolini pensa a Dante. Concepiscono il progetto di andare a Ravenna a prendere le ossa di Dante e di portarlo via. Ma ancora una volta, i frati e le organizzazioni preposte, poi l'idea resta anche questa sulla carta, preposte alla tutela della tomba, avevano pensato di spostare Dante in un posto più sicuro, metterlo sotto una lastra di cemento armato e di lasciare una cassetta finta nella tomba, caso mai qualche disadattato, qualche squinternato, fosse andato lì con l'idea di prenderla e di portarla via. Vi dico solo un'ultima battuta. Qualche mese fa è uscita la notizia, un lancio ANSA, di una memoria di un oggi ultraottantenne, che era un bambino allora, che ricorda di questo momento quando la cassetta con la ossa di Dante fu portata via all'intervento sulla tomba, che avevano fatto suo padre e il fratello Maggiore. Addirittura fu un'indicazione che veniva dai servizi segreti britannici, Misero di Mezzo, Manara, Valgimigli, e che pare che ci fosse il disegno di un altro folle squinternato, e cioè Hitler, di prendersi anche lui Dante e di portarselo a Berlino. Poi concepiva le cose più in grande e pensava anche a Cervantes e a Shakespeare, voleva fare questa apoteosi finale. Di questo, sinceramente, non ci sono prove, non ho trovato riscontri, mentre dell'altra idea di Pavolini-Mussolini, sì, è dall'idea di cosa fosse diventato Dante. l'immagine, il simbolo, no? E però, torno a dire, in conclusione, sì, questi soggetti ci hanno messo qualcosa di più, un carico da undici, si potrebbe dire, ma, diciamo, questo processo di nazionalizzazione forte e di identificazione con una sorta di icona, di sacrale, insomma, era maturato, era nato già nei decenni e nel secolo precedente. Bene, adesso vengo all'ultima domanda da parte mia. nella seconda metà del Novecento, finita la seconda guerra mondiale, finiti i fascismi, vi è, se così possiamo dire, un passaggio dalla concezione nazionalistica di Dante, una concezione universalistica di Dante, e si può, quindi, Dante, da una figura nazionale, diventa una figura universale. si può, quindi, parlare di un Dante europeo mondiale? Questo, questo senz'altro, sì. Cioè, lì, la grande questione è, con un Dante trasformato in questo modo, dal, come dire, dal nazionalismo dell'età liberale prima e dal nazionalismo fascista dopo, e con il rifiuto che viene, che matura di tutto questo, dopo il 1945, dell'idea stessa di patria. Ricordate il famoso libro di Ernesto Galli della Loggia? La patria è morta, la morte della patria. Dante sembrerebbe già buono, bello e pronto per essere messo nel cassetto, se non in qualche luogo peggiore, rimosso. In realtà non è così, perché Dante viene, appunto, riscoperto, rispolverato, riadattato come simbolo di italianità in una prospettiva universalistica. Questa è la grande operazione che riescono a fare in occasione del centenario precedente, quello del 1965, dove addirittura, infatti c'è il discorso di Giuseppe Saragat, il Dante poeta universale, ma addirittura c'è il ministro della pubblica istruzione di allora, che era Luigi Gui, temo cristiano, che era anche il presidente del Comitato per le celebrazioni, che va ad una celebrazione che viene fatta all'UNESCO, a Parigi, e dice che sostanzialmente si spinge a dire che in realtà il veltro profetizzato da Dante non era Vittorio Emanuele II, come avevano detto, non era il fascismo Mussolini, ma era questa idea di organizzazione internazionale, cioè addirittura, sapete, ricordate, siamo nel pieno del progetto di costruzione dell'Unità Europea, gli organismi, l'ONU, l'UNESCO, questa flata universalistica, quindi, come si usa a dire oggi, la giacchetta di Dante comincia a essere tirata tutta in una direzione diversa. Certo è che Dante continua a conoscere, anzi, aumenta il suo successo sul piano internazionale, diventa un'icona ben identificata, riconosciuta sul piano internazionale, tradotto ovunque studiato, ma non solo utilizzato da tutta una serie di altri di altri media, insomma, un'immagine molto popolare, pop, si potrebbe dire. E praticamente in battuta io dedicherei a questo punto l'ultima domanda di questa intervista per concludere proprio al Dante Pop di cui tu dedichi un paragrafo nel tuo nel tuo libro, cioè come effettivamente i media hanno poi utilizzato Dante per la pubblicità, i fumetti e i videogiochi. Faccio qualche esempio, per i videogiochi tu citi per l'appunto il videogioco Dante's Inferno dove però Dante in questo caso è un cavaliere templare che deve andare a salvare Beatrice da un lucifero che l'ha rapita. Per i fumetti menzioni le illustrazioni di Altan o se andiamo al sollevante la divina commedia di Gonagai o invece nel campo Disney la divina commedia con protagonista Topolino. Per la pubblicità altro esempio a me viene in mente adesso quella insomma pubblicità di una nota marca di carta igienica in cui c'è appunto Dante che sta stilando gli ultimi versi del paradiso e abbiamo questa Beatrice su Amante che dice bella bella questa commedia Dante divina però non è un po' lunga e Dante di tutta risposta risponde non è nemmeno un rotolo con buona pace diciamo degli italianisti e dei filologi. Ora io la mia domanda parte comunque sempre da questo Dante Pop nel 2015 se non erro è uscito un film che è una commedia demenziale quindi prendiamola per quella che è che si chiama appunto La solita commedia l'idea però di base è molto carina cioè abbiamo un ventunesimo secolo in cui i peccati dell'inferno ormai sono di fatto da completamente rivedere e per farlo viene mandato sulla terra di nuovo Dante per aggiornare diciamo i gironi infernali ecco se Dante a questo punto tornasse davvero in vita nel mondo di oggi cosa credi penserebbe insomma in merito non tanto a se stesso ma quanto a come viene inteso ecco allora grazie per questa ultima ultima domanda devo dire mi sono molto divertito a scrivere l'ultimo capitolo il Dante Pop facendo una scoperta dietro l'altra non era un mondo che io conoscevo avevo qualche indicazione quella ma questa dimensione fumetti manga pubblicità pubblicità enorme una quantità enorme dall'olio Dante d'inizio secolo fino fino al gelato San Montana dello scorso anno e tanti altri a pubblicità della team i videogiochi il cinema io dedico anche questo anche nei capitoli precedenti uno spazio relativo ovviamente in un volume di sintesi anche ai numerosi ai numerosi film mi permetto anche di segnalare faccio anche pubblicità ad altre cose c'è una bella mostra in questo periodo fino a gennaio a Ravenna per l'appunto da Fiorentino segnalo questa bella mostra a Ravenna proprio su l'epopea pop molto bella con anche degli spazi interattivi c'è una parte con i videogiochi dove ci si può mettere anche a giocare c'è un jukebox con le canzoni dove si può mettere pigiare e ascoltare le canzoni che alcuni cantanti o cantautori hanno dedicato a Dante ecco proprio questo per dare questa dimensione se venisse se venisse Dante indubbiamente non potrebbe non essere lusingato di questo apprezzamento ecumenico questo torniamo a dirlo ora veramente ha messo d'accordo tutti questa è la cosa anche impressionante di questo periodo che noi abbiamo avuto modo di apprezzare ripeto lo scorso anno nel 25 marzo il primo Dante e quest'anno il 25 marzo 2021 purtroppo in situazioni che hanno come dire dove i versi della commedia la figura forse stessa di Dante ci sono servite per muovere corde profonde insomma evidentemente Dante è ancora capace di parlare alla nostra anima profonda perché tocca praticamente tutti i sentimenti dall'amore all'odio a come dire alle aspirazioni al desiderio di cambiamento al desiderio di conoscenza cioè ci troviamo ci troviamo tutto questo io direi che forse da fiorentino disincantato avrebbe portato dentro di sé un tratto anche autoironico del tipico dei fiorentini e forse vedrebbe un invito a non esagerare quell'invito a non esagerare di cui anch'io do conto nel libro perché ne ho trovato traccia in più momenti e devo dire le cose più divertenti scritte proprio da toscani uno è Giuseppe Giusti Giuseppe Giusti poeta con una certa anche vena satirica in qualche modo che nel 1847 1847 scrive a Gino Capponi e dice basta Dante non se ne può più di tutta questa se noi andiamo avanti di questo passo a cercare di capire quanti peli ebbe nella barba arriveremo a farlo odiare perché alla fine finirà per istuccare come la pietanza più buona messa in tavola tutti i giorni e che poi alla fine uno non ne può più la stessa cosa dirà a fine 800 1896 1895 Carducci anche lui dicendo andando io ho titolato quel capitolo su quel periodo Dantomania perché veramente di questo si tratta e e credo che forse Dante avrebbe ci avrebbe messo su un qualche ai ai maledetti italiani e qualche cosa per dire insomma diamoci anche una regolata oppure in Piemontese avrebbe un Piemontese avrebbe detto esagerumanen non esageriamo insomma forse questo ecco si potrebbe dire chiudendo con il sorriso questa piacevole conversazione ringraziandovi ancora per l'invito che mi avete fatto bene io a questo punto direi di terminare qui ringrazio ovviamente l'autore Fulvio Conti ringrazio anche Daniele Santarelli per insomma essere stato con me in questa meravigliosa conversazione io vi do appuntamento a questo punto alla nostra prossima puntata un caro saluto e arrivederci a tutti grazie 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 a tutti